Ciao ragazzi e benvenuti in questo tutorial, oggi cercherò di spiegarvi come fare per sfruttare appunto un programma esterno per riuscire a utilizzare correttamente l'audio della piattaforma Zoom. Il problema che si ha spesso quando si utilizza una scheda audio esterna è che non si riesce a configurare bene con Zoom soprattutto se si vuole utilizzare magari un microfono esterno per comunicare con gli studenti e anche soprattutto poi una chitarra in diretta, una batteria elettronica oppure l'uscita del nostro software di registrazione come può essere Cubase, Reaper e così via. Allora quello che dobbiamo fare per riuscire a gestire nel modo corretto e semplice l'audio di Zoom è quello di installare un programma esterno che si chiama Voice Meter. Vi faccio vedere dal sito, ci sono tre versioni, c'è la versione Voice Meter, Banana e Potato. Io oggi parlerò della versione Banana che è la versione Intermedia che ognuna di esse ha qualche caratteristica in più partendo da Voice Meter che è quella più semplice a quella Potato più completa. Per riuscire a utilizzare correttamente la scheda audio più un microfono esterno la versione Banana è quella più adeguata e sicuramente un buon compromesso. Tutte queste versioni sono completamente gratuite ma come viene indicato sul sito si preferisce avere una donazione in base alla versione che si vuole utilizzare. Quindi se volete fate una donazione a chi ha appunto scritto questo programma. Quindi andate su Banana e scaricate la versione eseguibile o il pacchetto zip. Dopo averlo scaricato ed avviato mi raccomando riavviate il computer per far funzionare correttamente tutto quello che riguarda appunto l'audio e i driver che vengono installati. Allora il primo step è quello di avviare Banana quindi andiamo tranquillamente su Windows e digitiamo Banana, Banana Voice Meter. Ok in questo caso io ce l'ho già aperto e sta già funzionando. Allora quello che dobbiamo fare è avere alcuni accorgimenti per riuscire a connettere correttamente il tutto. Allora nel mio caso vedete che qua sulla sinistra nella versione Banana ci sono tre hardware input, due virtual input e tutte le uscite disponibili. Allora gli hardware input possono funzionare in diverse modalità o prendere l'input direttamente dalla scheda audio oppure si possono fare dei routing un po' più articolati. Allora il primo step da eseguire è quello di andare su A1 sulle uscite e quindi indicare qual è la scheda audio che voi utilizzerete. Vi consiglio quindi di utilizzare una buona scheda audio per avere una qualità del segnale appropriato. Andate su A1 e trovate differenti configurazioni quindi con i driver ASIO, MME, KS e WDM. Io personalmente sto usando un M-Audio Profire ASIO nella versione appunto dei driver ASIO che ha otto ingressi e otto uscite. Ci sono alcuni casi in cui altre tipologie di driver funzionano meglio io vi consiglio questa versione quindi versione ASIO. Una volta configurata poi troveremo queste tre uscite fisiche come viene indicato dall'etichetta che sono nominate A1, A2 e A3. La configurazione poi dipende da quello che dovete fare nel vostro caso. Allora in questo caso io sto utilizzando l'uscita A1 quindi lasciate il fader su 0db e questo potete poi utilizzarlo come fader generale del volume se ad esempio non state non avete un controller di volume esterno. Poi un'altra cosa da considerare è quella se la vostra scheda audio ha un pannello di controllo esterno. Ad esempio nel mio caso la M-Audio Profire ha questo pannello di controllo che io utilizzo in questo caso per riuscire a togliere il delay d'ascolto quindi ad esempio il microfono che sto usando per parlare le uscite di Cubase vengono gestite in modo separato. In questo video non andiamo ad addentrarci troppo in questo discorso perché sarebbe troppo lunga ma semplicemente vi dico che potete poi gestire ancora in un modo un po' più complesso il tutto utilizzando anche gli ascolti diretti della vostra scheda audio. Torniamo a banana adesso troviamo questa configurazione ovvero VoiceMeeter Vaio e VoiceMeeter House. Queste sono le due uscite che sono virtual input che vengono utilizzate dal vostro software. Per riuscire ad avere tutto ordinato il mio consiglio è quella di utilizzarne una per l'ascolto di Cubase o il software che state utilizzando per mandare in play ad esempio per dalla musica ad esempio può anche essere Reaper, Cake o qualsiasi altra cosa. Oppure per i suoni di Windows in questo caso sto utilizzando VoiceMeeter AUX che è un'altra tipologia di virtual input a disposizione. Queste due in fondo sono le uscite virtuali che poi vengono utilizzate per mandare quello che sta accadendo dentro questo mixer verso la piattaforma Zoom. Quindi è come se creassimo in modo virtuale un collegamento che esce dalla scheda audio e rientra dentro qualcos'altro. Quindi in questo caso dentro Zoom. Qua sulla sinistra invece c'è la configurazione degli input fisici che avete collegato. Allora in questo caso vedete che ho A1 ASIO input 1 più 1 e A1 ASIO input 3 più 3. Allora potete utilizzare due modi differenti. Il mio consiglio è quello di cliccare su questa etichetta e di lasciare appunto remove device selection su tutte e tre gli input. Andate poi nelle configurazioni quindi nel menu e andate poi su system. In questa schermata vedete patch ASIO input to strip. Questi qua sono l'1 e il 2 e il 3 sono questi input fisici qua. Dovete mettere il numero di input relativo all'input che state utilizzando nella vostra scheda audio. Quindi in questo caso nel canale 1 di voice meter ho questo microfono esterno collegato. Se io vado a parlare ok ok vedete che l'audio arriva dentro anche questo input qua. Se invece sto utilizzando come in questo caso un microfono esterno collegato all'input numero 3 della scheda audio principale vedete che ho messo sull'input 2 di voice meter l'input 3 della scheda audio. Il 3 3 significa semplicemente che viene mandato in mono e questo è comodo appunto per non avere un suono sbilanciato. Se io facessi questo e rimuovessi il 3 da qua e togliessi il mono qua vedete che il suono diventa sbilanciato quindi avete due opzioni o mettete il mono in questo caso oppure gli date gli ingressi 3 e 3 e sicuramente non sbagliate. Poi questo riguarda appunto gli input fisici dove andrete a collegare gli strumenti musicali alla vostra scheda audio. L'input 3 in questo caso non è utilizzato. Queste uscite sono appunto i punti dove deciderete di mandare il segnale. Allora in questo caso la A1 sono le uscite principali della scheda audio. I microfoni non voglio mandarli a me stesso nella scheda audio quindi sono di uscite le uscite A1 sono spente. Il B1 invece è l'uscita virtuale che utilizzo per mandare il segnale a Zoom. In questo caso vedete che tutti e due i microfoni sono assegnati A1 e infatti quest'uscita sta funzionando. Se sono assegnati A1 ed è tutto configurato in modo corretto poi Zoom riuscirà ad acquisire il suono da questa uscita virtuale. Adesso andiamo a vedere su Cubase ad esempio come configurare il tutto. Su Cubase bisogna avere alcuni accorgimenti per configurare correttamente il tutto. Andiamo su Studio, configurazione dello studio. Vedete che non abbiamo più i driver ASIO della scheda audio, in questo caso era la Profire, ma dobbiamo scegliere VoiceMeeter Virtual ASIO che appunto sarà il sistema che andrà a comandare Banana. Gli diamo OK e andiamo sulle connessioni VST, questa ovviamente questa parte è diversa in base a Cubase o se state utilizzando altri software. Nella Control Room se la stiamo utilizzando andiamo a mettere VM ASIO, VM VAIO 1 e 2 che sono le uscite che poi andremo ad utilizzare su Banana. Negli ingressi invece se dobbiamo registrare degli strumenti o fare entrare il microfono dentro Cubase, comunque per registrare qualcosa, dobbiamo utilizzare sempre le entrate VAIO 1, 2, 3 fino alla 8 in base a quelle disponibili. Sono corrispondenti a quello che io ho impostato prima sul software Banana. Quindi se vado a fare una scheda audio, gli dico input 2, in questo caso è il microfono che sto utilizzando, vedete che funziona, quindi è l'audio diretto dal mio microfono e sta funzionando. Adesso su Cubase è tutto configurato, andiamo a vedere se sta funzionando correttamente dentro VoiceMeeter. Quindi mandiamo un play in loop, il, mandiamo un loop in play. Allora vedete che su VoiceMeeter VAIO sta arrivando un segnale e allo stesso tempo io lo sto mandando a 1, cioè alle casse o alle cuffie e a B2 in questo caso, che è un'uscita separata. Se io voglio mandarlo in un'uscita unica insieme al microfono, gli dico di mandarlo anche a B1. In questo caso B1 sta controllando e facendo uscire il segnale del mio microfono più il segnale di Cubase. Adesso andiamo a vedere le configurazioni su Windows. Se andate nel pannello di controllo dell'audio di Windows, in questo caso vedete che ho configurato Scegli dispositivo di output, VoiceMeeter AUX Input. In questo caso è riferito al canale virtuale numero 2, che è questo qua, quindi l'audio di Windows uscirà in questo punto. Negli input invece ho scelto di utilizzare AUX Output, che è la seconda uscita, mentre la prima uscita è semplicemente output normale. Quindi l'output senza l'AUX, appunto nella seconda parte del nome, è l'output numero 1, AUX Output è l'output numero 2. Poi magari cercherò di farvi uno schema grafico per riuscire a farvi capire meglio i collegamenti, perché comunque è un po' intricato per far funzionare tutto. A questo punto dovremmo aver configurato tutto. Quindi per ricapitolare, questo input è il microfono che voglio utilizzare per le lezioni, per parlare agli studenti. Questo è quello del tutorial, in ogni caso il sistema è uguale, lo sto mandando all'uscita virtuale B1, che è questa. Cubase sta funzionando su VoiceMeeter VAIO, ed è, e va direttamente all'uscita B1. Se volete ascoltare anche dalle vostre casse, ad esempio in questo caso ho acceso A1 per poter ascoltare il segnale di Cubase. Per il segnale del computer vedete che lo sto mandando A1 per poterlo ascoltare, ma non lo mando ad esempio a Zoom per poterlo mandare poi in diretta. Andiamo a vedere se su Zoom funziona tutto. Quindi apriamo Zoom, andiamo a fare la configurazione dell'audio. Ci sono alcuni accorgimenti che ho modificato in base all'audio originale perché ho visto che non funzionava molto bene. Quindi andiamo su Advanced, vedete che ho disabilitato completamente la soppressione del rumore, disabilitato, e l'Echo Cancellation è rimasto su Automatico. Poi ho messo questo Show in Meeting Option in modo che vi permetta di abilitare un pulsante che vi permette di ascoltare l'audio originale senza appunto il processing di Zoom. Andiamo a verificare però se tutto funziona. Quindi andiamo, vedete che nel microfono vado a settare Voice Meter Output, non la versione AUX perché Output è appunto l'uscita B1. Vado poi su Speaker, che è appunto l'uscita che io utilizzo per ascoltare l'audio di Zoom. Vedete che è verso Voice Meter Input, non la versione AUX, che è appunto l'uscita per ascoltare il computer, ma utilizzo la stessa uscita su cui va Cubase. In questo caso è molto più semplice gestire l'ascolto. Ora andiamo su Cubase, facciamo Play. Vedete che in questo caso dentro al microfono mi sta arrivando anche il segnale direttamente da Cubase. Il giro è un po' intricato, quindi cercate di guardare il video passo per passo. Ci sono parecchie cose da configurare. Ricordatevi poi nelle opzioni di abilitare questo, ad esempio Show Up on Startup per assicurarvi che tutto sia configurato giusto quando accendete, di far partire Banana nel momento in cui accendete il computer e se volete averlo sempre visibile sul vostro desktop. Qua poi ci sono altre impostazioni che potete trovare nelle impostazioni avanzate. In questo caso siamo configurati a 48 kHz. Potete cambiare il buffer direttamente da qua o dal pannello della vostra scheda audio. Ci sono parecchie features molto importanti e comode. Per questo video è tutto. Spero di avervi fatto capire meglio come configurare i vostri dispositivi con Banana e la piattaforma Zoom e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!